Ed ecco che sono entrati in acqua, abbiamo Giancarla e Antares, Imma e Gilevra, Luca e Zoe, Cristina e Molli e Domenico e Teccoche. Allora le razze che stiamo vedendo in acqua all'alto sono quasi tutti Labrador, Corsi Bata di distrazione, Terranova lo vedete all'estrema destra? Ecco che comunque cominciano ad essere recuperati. E aiuta il canneggiamento ma in questo caso il cane non ne ha bisogno e consente questo gippotto a traverlo. attraverso delle maniglie di potersi afferrare il pericolante. Vedete che poi il cane gira intorno al pericolante, effetto a un giro praticamente da 360 gradi. Questo che cosa permette? Permette un migliore allineamento e permette alla persona di potersi aggrappare, avere più tempo per aggrapparsi.